E' stata l'elezione della madamina E io ero qui Non sono qui No, per dire Ed è una performer turinese Devo dire che sono anche un po' Orgogliosetta No, poco, niente Così Perché non è finito in città Orgogliosissima Quindi ieri quando ho dovuto dire il primo premio Non sapevo più se riuscivo a dirlo Piango, in caso di lo fatto Ci siamo commossi tutti, è vero Perché è stata proprio una bella vittoria Quindi Italo-Russa Una perla essenziale Della metina in flamingo Infatti il suo nome d'arte Pearl Divine Con Avalon La madamina 2022 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti